Una sconfitta che non ci aspettavamo? Sicuramente è una partita che non meritavamo di perdere, purtroppo un episodio ci ha condannato e ci è mancato un briciolo di qualità secondo me per poterla riprendere e provare a ribaltarla, però è andata così, dispiace perché comunque i ragazzi ci hanno messo l'anima, dispiace perché abbiamo concesso veramente zero e purtroppo, ripeto, gli errori ci stanno, li vedo fare in Serie A, li vedo fare in Nazionale, a fior di campioni ci sta, questi ragazzi stanno facendo cose talmente straordinarie che un errore purtroppo può succedere, oggi l'abbiamo pagato, non siamo riusciti a mettere una pezza all'errore, c'è un po' di rammarico perché secondo me avevamo iniziato la partita nel migliore dei modi, avevamo bene in mente il piano partita, stavamo creando secondo me i presupposti pur non avendo creato occasioni clamorose e purtroppo quel gol ha messo il Cerinora nelle condizioni di fare una partita molto accorta e di ripartenza a onore del lavoro che stiamo facendo perché Cerinora è una squadra forte, sappiamo tutti, costruita con giocatori di grandissima qualità e noi nonostante tutto abbiamo costretto una partita molto difensiva, quindi questo va a onore del grande lavoro che stiamo facendo Sicuramente in fase offensiva quel pizzico di qualità ci è mancato oggi per andare a scardinare una difesa esperta che ha difeso con grande mestiere usando anche il fallo giusto, spezzando l'azione al momento giusto come è giusto che faccia una squadra matura ed esperta come il Cerignola, però sicuramente noi in alcune situazioni abbiamo sprecato delle azioni potenziali importanti secondo me che potevamo tramutare meglio però va bene così, fa parte di un percorso, lo sappiamo che è ancora lungo, l'abbiamo detto, lo dicevamo quando vincevamo, lo diciamo oggi dopo una sconfitta sicuramente l'unico errore che dobbiamo fare è perdere certezze dopo una partita che tutto sommato hai perso ma probabilmente non meritavi di perdere quindi con grande umiltà ci rimetteremo a lavorare e prepareremo la prossima gara Senti, ti posso chiedere se c'è stato un vero e proprio blocco psicologico di 5-10 minuti subito dopo il gol del Cerignola cioè la squadra non ha capito che cosa stava combinando, cosa stava succedendo perché noi dalla tribuna stampa abbiamo visto troppi errori anche in fase di passaggi più semplici Non lo so, grossi errori no, andrò a rivedere, cercherò di cogliere, sicuramente è stato un gol che è venuto un po' casuale quindi magari un po' può essere, ripeto la vado a rivedere meglio, però tutto sommato la squadra poi ha tenuto il campo bene con personalità naturalmente è diventato un po' più complicata perché loro si abbassavano un po' di più quindi trovare spazi non è semplice e questo campo per giocare nello stretto non è il massimo perché comunque mi ricordo almeno due o tre situazioni di palla che arrivava e rimbalzava alta purtroppo ci ha fatto sbagliare il controllo, però ripeto, non cerchiamo alibi sicuramente abbiamo fatto una buona gara ma potevamo fare di più sicuramente potevamo sfruttare meglio determinate situazioni che avevamo anche visto in settimana quando l'abbiamo fatto abbiamo sempre sbagliato l'ultimo passaggio perché abbiamo preso 3-4 fuori gioco il primo tempo che bastava un tempo di servizio un po' più veloce per poter mettere un uomo davanti alla porta e lì si poteva fare sicuramente meglio detto ciò, ripeto, archiviamo questa gara e pensiamo già alla prossima perché ci mancano ancora 10 battaglie quindi siamo ben consapevoli di quello che ci aspetta, rimettiamoci al lavoro subito grazie a tutti